Addio alle barriere architettoniche al cimitero di Lora. Dopo la sospensione dei lavori a causa della mancanza di materie prime e di alcune verifiche da parte della soprintendenza, sono finalmente terminati gli interventi al Camposanto Cittadino. I lavori per rimuovere le barriere all'ingresso principale del cimitero sono iniziati nel mese di febbraio e avrebbero dovuto concludersi a marzo. Sono stati realizzati due scivoli laterali ad uso di carrozzini e passeggini, mentre i prossimi interventi prevedono la creazione di due montascale all'interno del cimitero e la sistemazione dei camminamenti. Circa 46 mila euro la spesa complessiva degli interventi. Sono soddisfatto di aver portato a compimento questo importante progetto per i cittadini, ha detto l'assessore ai cimiteri di Palazzo Cernezzi, Francesco Pettignano. Si tratta di un intervento atteso da tempo. Grazie a tutti.